Ave Maria, di grazia piena, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne. Che benedetto è il frutto del Signore, Gesù. Grazie per la visione. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ora è l'ora della nostra morte. Allora 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 è l'ora della nostra morte.